Musica Misure di sicurezza sempre più rigide, sì, ma necessarie. Commentano così i cittadini di Torre del Greco le nuove restrizioni in arrivo per la regione Campania. Proprio in queste ore gli organi competenti infatti sono al lavoro per istituire possibili nuove zone rosse per quelle città che contano maggior numero di contagi. Limitazioni in arrivo anche per le attività commerciali nel fine settimana. In arrivo nuove restrizioni in Campania, probabilmente molte zone diventeranno zone rosse. Che cosa ne pensa? Avrebbero dovuto farlo prima, perché così almeno avremmo fatto un Natale più tranquillo. Invece adesso forse è troppo tardi. Ha paura? No, paura no, però il pericolo ci sta. Dobbiamo convivere fin quando non esce il vaccino. Una volta che uscirà il vaccino speriamo che finisca presto questa cosa, perché a noi commercianti ci sta penalizzando moltissimo. Pare che arriveranno restrizioni soprattutto in merito alle attività commerciali nel fine settimana. Infatti, questa è la preoccupazione più grande, perché i commercianti ormai già stanno moltissimi con le spalle al muro e questo sarà il colpo di grazia che parecchi potranno chiudere e non prendere più. Lei è preoccupata? Io sì, assolutamente sì, perché hanno chiuso le scuole per i bambini e poi hanno lasciato comunque i centri di terapia e leocopediste aperte. Quindi, a che cosa serve? A nulla. Perché se i miei figli non vanno a scuola, automaticamente non dovrebbero frequentare nemmeno un centro. Saremo peggio di prima? Peggio, ma molto peggio, perché è impossibile, è impossibile una cosa del genere. Perché la mattina siamo zona gialla, la sera diventiamo zona rossa. Da che cosa dipende? Sinceramente è un po' un caos, perché da un lato c'è la salute pubblica, dall'altro il problema sono le attività economiche che avranno ingenti danni economici. Quindi, non lo so, bisognerebbe anche responsabilizzare un po' le persone per evitare assombramenti inutili. Tipo entri nel bar, fai la consumazione e poi non ti assembrare con altre persone, vai via. Hanno avuto tanto tempo per organizzarsi e non si sono organizzati per niente. Cioè gli ospedali sempre fatiscenti, sempre mancanza di personale e non ne parliamo di posti letto. Alcune zone probabilmente diventeranno zone rosse, è giusto secondo lei? Per evitare il contagio sì, però si dovrebbero tutelare sempre le attività economiche. Basterebbe fare delle zone nel comune, farle diventare rosse e quindi dare maggiore libertà alle altre zone, meno affollate. Nuove restrizioni in arrivo per la campagna, probabilmente alcune zone diventeranno rosse. Che cosa ne pensa? Penso che se hanno valutato così, hanno valutato bene. Avranno valutato persone che ne sanno più del comune cittadino. Noi cittadini dobbiamo attenerci assolutamente alle direttive, perché altrimenti davvero non si capisce niente. Già la regionalizzazione di queste norme rende tutto così complicato. Tantissima paura e soprattutto un po' di zona rossa ci vuole, perché magari fermiamo un attimo un po' questa situazione che ormai è insostenibile. Per chi ha bambini, anziani, speriamo che va tutto bene. Mi dispiace purtroppo per l'economia, però un po' per le restrizioni, almeno anche un messetto ci vuole, secondo me. Nuove restrizioni in arrivo per la campagna, limitazioni per le attività commerciali nel weekend. Che cosa ne pensa? Probabilmente sono adatte, perché se le persone si vogliono organizzare riescono ad organizzarsi comunque durante la settimana. Che Natale ci aspetta? Probabilmente proprio più distritto e basta, però sono ottimista per il futuro.